Ciao ragazzi, eccoci giunti al nuovo video riguardante i nuovi arrivi in Serie A o chi ha cambiato squadra. L'esempio di oggi è Roberto Piccoli, classe 2001, che è passato con la formula del prestito secco dall'Atalanta al Genoa. All'Atalanta era un po' chiuso, visto comunque che ci sono davanti a lui Zapata e Muriel. Ha collezionato comunque 12 presenze con una rete e è andato sicuramente al Genoa per avere maggiori possibilità di giocare, se non titolare, sicuramente aumentare il proprio minutaggio. Già la scorsa stagione allo Spezia, sempre in prestito, ha collezionato in 20 presenze, 6 gol e 2 assist, quindi è un giocatore che si può prendere al fantacalcio, chiaramente come ultimo slot del vostro attacco, alternativa quindi ai vostri titolari. Non sarà un titolare, può giocare come alternativa con destro, anche insieme a lui, a seconda del modulo che verrà utilizzato. Il consiglio quindi è di prenderlo come scommessa. Vi ricordo chiaramente di iscrivervi al nostro canale YouTube, di cliccare sulla campanellina per essere sempre avvisati. Riguardo ai nostri nuovi video ne faremo diversi per questo mercato di riparazione e chiaramente vogliamo sapere anche la vostra opinione e i vostri dubbi riguardo al mercato di riparazione. Se vi è piaciuto questo video lasciate un like, un grosso saluto da tutta la redazione di Tutto Fantacalcio. Ciao!